Ragazzi ben ritrovati in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi una pescata che ho fatto short-seeking nella quale ho preso un pesce che desideravo prendere da molto tempo, ovvero la ricciola. Buona visione! Pesce? Ce l'hai? Che c***o dici? Ma veramente? Oh oh oh! Gio 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 Gio! Che c***o dici? Non hai rotto, non hai rotto, come hai rotto? Alletterato era. Partenza che ha fatto così è alletterato per forza. Primo giro. Non hai rotto, hai slamato. Slamato. Come on. Come on. Come on. Se non è una poppa presa a stracca. Socarello cos'è? Socarello? vediamo non vedo niente col sole non vedo a strappo non vedo non vedo non ti slamare per favore non ti slamare ce lo scoglio lì però e c'è ora no la no forza la forza forza da un po forza non la fanno strusciare si la prima ricciola che ho preso no non ci credo riccioletta la mia prima ricciola bella bella non si la prima ricciola che ho preso non si la prima ricciola che ho preso e 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 tordo pavone e 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 bene ragazzi questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto e noi come sempre ci diamo l'appuntamento ad un prossimo video ciao e e